C'è... di quella... che non cap... di quella c'è... Che gente che c'è... Eh... non c'è nessuna cosa fa la gente che... Piacere, Bossi e Ugo, mia moglie Neris... Bossi e Ugo, Neris Bossi, Bossi e Ugo, Neris Bossi... Siamo qui perché abbiamo... abbiamo festeggiato il nostro anniversario di Nostra... Sette anni, sette anni di matrimonio... Non è mai da calete, neanche una volta... C'è, una volta mi ha portato con il passore... Di dove siete voi? No, tanto per sapere... Siete stranieri? No, magari... Ma veramente? Cosa ha detto il dottore? Ho detto se vuoi ciulare sua moglie... Ha detto proprio ciulare... Ah, sono di Milano ora, capito... Siete milanese... Mi sei guardato... Scusate... Senti animale, io tutta sera che ti guardo e da lontano mi sembravi un po' pirla... Invece da vicino mi sei simpatico... Grazie... E perciò hai vinto un premio... Ah, ho vinto la lotteria... Abbiamo vinto il motorino... Ma quale lotteria, quale motorino... Il premio... È un giro con mia moglie... Ah... Non l'ho capito... Ma viene giù dalla pianta... Nei male... Un giro sopra mia moglie... Un giro di libidina... Ma io sono già sposato... Cos'è sta dicendo... Siamo impazzini... Ma anch'io sono sposato... Cosa sei? Non ti piace la mia moglie? No... Non ti piace la mia moglie? Charlie... Camille... Camille... Vieni... Vieni amore... Fai vedere tutto l'arredamento al macaco qui un attimo... Sì sì... Guarda, guarda... Eh? Ah... 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 Alt... Cioè praticamente lei davanti a questo panorama di elastisi ha questa reazione... Volevo fare i complimenti per la concettura... Chi ha fatto la messa in piega? Conciatura... Qualcosa le piace? Ah... Sì per... E però? Per sua moglie passi... Ma la mia mummia chi glielo dice? La mia chi? Alla mia mummietta! Ma questo è pazzo! È ritardato! No! Non faccio così! La mummia capirà! Venite! Cosa volevano quei due?